Andiamo al messaggio su Sansone. Leggeremo un po' della sua storia per imparare lezioni che si applicano ai tempi di oggi. Il messaggio è intitolato Decisioni? Hai chiesto prima a Dio e atteso per la risposta? La saggezza di cercare il Signore e attenderlo. Inizio con la scrittura di Abacuc 2, verso 1. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Glorie a Dio. Questo è il messaggio di oggi, fratelli. Il messaggio principale vi preghiamo di mettervi in attenzione e concentrazione e l'antenna puntata verso il Signore, cuore aperto, per ricevere le sue benedizioni nel nome di Gesù Cristo. Allora, ti ho dato la foto di Sansone, vero? Sì. L'hai messo sulla radio? Sì. Ecco, qui c'è la sua falsa amante qui che gli taglia i capelli e poi Sansone ha ceccato lì che butta giù le colonne. Questa è una storia vera, è una storia nella Bibbia. Glorie a Dio che oggi vogliamo estrarre con l'aiuto dello Spirito Santo nel nome di Gesù le lezioni per noi. Qual è il messaggio di Sansone per noi oggi, per i pizzie che stiamo attraversando? Gloria a Dio. Allora, io comincerei dicendo che a volte io credo che siamo un po' troppo familiari con il Signore e non lo rispettiamo come dovremmo, come nostro Dio, come nostro Padre. L'importante è cercare di non essere religiosi perché la religione è una brutta imitazione della fede. È il mondo secolare che fa una fotocopia di Dio, del cristianesimo. E nelle religioni c'è gente di tutti i colori, sono sinceri, meno sinceri, mezzo cuore, falsi, veri, c'è di tutto nella religione. Allora, gli occhi su cui dobbiamo tenerli, gli occhi, su Gesù. E lui è il Signore che guida e questo che dobbiamo seguire è il Signore. Allora, ti ho dato alcune scritture, Angelina, mi leggeresti la prima, Giovanni 5. Giovanni 5, 19. Gesù quindi rispose e disse loro, In verità, in verità vi dico, che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre. Perché le cose che il Padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Alleluia, alleluia. Quindi il Signore non faceva niente se non la vedeva al Padre. Doveva essere fatta dal Padre. E allora Gesù, è così, dobbiamo essere così. Vedere, fare quello che Dio ci fa vedere. Giovanni 5. Giovanni 5, 30. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico. E il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Va bene. Sì, è vero che Dio ci ha dato la maestà di scelta. Abbiamo il privilegio di scegliere. Non siamo animali. Contrariamente alle sciocchezze dell'evoluzione. Non siamo animali. Se loro ci sentono animali, sono affari loro. Io sono creato a immagine di Dio, non dell'animale. Quindi queste sono animalate, dire che siamo del regno animale. Siamo nel regno divino, figli di Dio. E allora Gesù faceva quello che il Padre lo guidava. E noi dobbiamo aspettare che il Padre ci guidi, che ci mostri cosa fare. E allora la cosa avrà successo. E a volte quello che ci mostra è il contrario della nostra mente carnale, dalla logica carnale, umana. L'esempio di Gesù, il figlio di Dio, lui non fa assolutamente nulla che non sia la volontà del Padre. Quindi sì, possiamo scegliere, ma le scelte ci sono di due tipi. Prima, a modo nostro, e non funziona. Basta guardarne il mondo. Numero due, scegliere quello che è la volontà di Dio. Il Signore non ci obbliga, ci dà la scelta. E quello però funziona sempre. Giudici 16, andiamo a Sansone. Giudici 16, 16 a 21. Ecco, la storia di Sansone, che è il punto che voglio toccare oggi, la storia che, fratelli, voi conoscete, ma ci sono alcuni punti che vorrei sottolineare oggi. In Sansone c'è un amante, Dalila, che, lui era tipo abbastanza facilone, andava, saltava di donna in donna, trovava una donna che gli piaceva, una filistea, non doveva essere ebrea, i genitori l'hanno sgridato, ma il Sansone, testa dura, dice no, voglio una donna filistea. E poi quella la persero, hanno trovato un'altra, e che sarebbe questa qua, Giudici 16. Ecco, andiamo. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui, con le sue parole, e lo tormentava. E gliene furà tristato a morte. Cioè, lui, cosa voleva questa donna? Cioè, i filistei, i principi filistei, cinque principi, hanno offerto un sacco di soldi, se lei avesse carpito il segreto della forza di Sansone, che volevano ucciderlo, volevano catturarlo. E loro hanno detto, prendiamo la sua amante qui, che è una filistea, e l'hanno minacciata. O scopri il segreto e ti daremo un sacco di soldi, o altrimenti ti distruggiamo a te e a tua famiglia. E allora lei, in maniera, diciamo, molto fedele, allora lei faceva pressione su di lui, e lo tormentava per sapere qual era il suo segreto, della sua forza. Verso 17. Dalì là, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei filistei e fece dire loro, venite su, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia. Chiamò un uomo e gli fece tagliare le sette trecce della testa di Sansone. Così giunso ad omarlo, e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse, Sansone, i filistei ti sono addosso! E egli, svegliatosi dal sonno, disse, Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Il Signore si era ritirato da lui perché lui aveva rivelato il suo segreto a una donna pagana. 21. I filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. Ed egli girava la macina nella prigione. Giudici 16, 16 a 21. Sansone era un grande uomo di Dio. Ma, ma, ma è cascato nella fossa che spesso anche noi cadiamo dentro. Sansone era diventato troppo familiare, si era preso troppo confidenza con Dio, troppo poco rispettoso. E questa è ricetta per il disastro. Attenzione che, a non confidare troppo nella, ciò che Dio ci ama, che ce ne approfittiamo. Che diventiamo, prendiamo confidenza con la sua grazia, il suo amore, il suo misericordia. Possiamo fare quello che vogliamo, mangiare il frutto proibito dell'albero. Tanto Dio è amore, ci perdona. Non è così la storia. Sansone, per via del grande talento della sua forza divina, forza divina, lui comincia a fare di testa sua e trascura l'umiltà di chiedere a Dio prima di prendere decisioni. Racconta, rivela il suo segreto senza chiedere a Dio. Allora, Sansone comincia a pensare che tutto quello che faceva era automaticamente volontà di Dio. Perché no? Sono l'uomo di Dio, sono il giudice di Israele, guarda che forza che Dio mi ha dato, tutte le donne svengono quando mi vedono, io sono in gamba. Si sentiva lunto e poteva ricorrere al suo talento, al talento della sua forza quando voleva. come una specie di magica lampada di Aladino da strofinare da cui fuoriusciva questo genio magico della sua forza e tutto era risolto. E qui casca l'asino. E come l'asino, Sansone finisce alla macina. Giudici 16. Giudici 16, 21. Lo legarono con catene di bronzo ed egli girava la macina nella prigione. Alleluia. Immaginate Sansone mentre gira la macina cieco, ha ceccato, senza occhi. Lui, il numero uno di Israele, il terrore dei filistei, a girare la macina come un asino, la macina per trebbiare il grano. fratelli, se non vogliamo finire orbati a macinare per i filistei di oggi, non facciamo lo sbaglio di Sansone che confidava nella sua forza sovrannaturale, pensavo che gli fosse sufficiente. tutti e ciascuno di noi abbiamo i nostri talenti, intelligenza, pregi, ma dal momento in cui cominciamo a pensare che non abbiamo bisogno di chiedere a Dio come faceva Gesù ad ogni svolto, ogni bivio, ogni decisione, ecco che immediatamente ci stiamo avviando verso la via della nostra mente carnale che sempre ci porta a qualche macina per asini. Leggiamolo, Proverbi 14, 12. Proverbi 14, 12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Quante volte abbiamo fatto la scelta che ci sembrava la più giusta, litigare con la moglie, maltrattarla, una moglie che non ci capisce, non ha capito chi siamo, non ha capito chi sono io. Io non so se l'ha capito Dio che sono io. Lui senz'altro l'ha capita. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce per condurre alla morte. Ci sembra diritta, sì, comunismo, capitalismo, marxismo, fascismo, materialismo. Tutti quelli che praticano hanno praticato queste cose e gli sembrava giusta. E quanti sono giunti alla morte tramite queste cose? Quanti stanno soffrendo oggi perché stanno facendo la cosa migliore, la cosa che più gli sembra giusta? Una gabbia di mate, vediamo il Parlamento italiano, lì, tutti che si odiano, si offendono, si ammazzerebbero se potessero, una gabbia di matti. Eppure, la logica della matematica divina, della verità, della parola di Dio, è lì, basterebbe seguirla. Gloria a Dio. Torniamo a Sansone. Sì. Lui si pente, Dio gli concede il suo ultimo desiderio, in questo che appare essere il solo suicidio autorizzato da Dio. Giudici 16, 26 a 31. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano, Lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggi a esse. La casa era il tempio dei filistei dove c'erano, dice la Bibbia, 3.000 filistei c'erano, anche sul tetto stavano. Wow. La casa era piena di uomini e donne e tutti i principi dei filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò il Signore e disse, Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, o Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa, si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse, che io muoia insieme con i filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Quindi risalirono e lo seppellirono fra Sorrea ed Estahol nel sepolcro di Manoa suo padre. Egli era stato giudice di Israele per vent'anni. Gloria a Dio. Il Signore lo aveva suscitato per mantenere il diavolo a una distanza, i nemici di Israele e i filistei a una distanza. E infatti si erano calmati molto davanti a lui. eppure un peccato di carne per saltare di letto in letto lo ha perduto. Lo ha perso. E questa donna lo ha talmente ossessionato che ha rivelato il suo segreto. Attenzione alle cose carnali che ci ossessionano. Attenzione. Non si può rivelare i segreti di Dio che Dio ci ha dato a nessuno. Sono tra me e Gesù. Ci sono cose che sono solamente tra me e il Signore. La crescita dei capelli. Gloria a Dio. Per imparare la lezione rileggiamo bene il verso 20. Sansone non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Sansone neanche si rende conto che l'unzione lo aveva lasciato. Quando confidiamo troppo in noi stessi l'unzione di Dio ci lascia. Non la salvezza non lo Spirito Santo l'unzione è un'altra cosa. Dov'è lo Spirito Santo però camminare in disubbidienza. Vediamo in Matteo 7 23 21 al 23 e la cosa diventa tragica perché neanche ce ne rendiamo conto continuiamo ad andare avanti nella carne pensando che sia lo Spirito e come si fa sempre la differenza ti metti in ginocchio ti dispiri davanti a Gesù ti metti in ginocchio nella tua cameretta e chiudi la porta in privato in segreto cerchi il tuo Dio e continua a cercarlo finché lo trovi come lo trovi senti la sua pace che ti entra nel cuore e dopo e dopo dopo averlo dato al Signore stai zitto ascolti e il Signore parlerà nella confusione del tuo cuore attraverso la pace ti parlerà e come si caccia via la confusione la confusione si caccia via lodando il Signore e poi e poi aspetti ed entra la pace nella pace il Signore ti parlerà cercamo di non essere come quelli del mondo che corrono corrono e non arrivano da nessuna parte come galline spennacchiate sotto la pioggia e corriamo ma neanche sappiamo dove corriamo vanno a metropolitano a Milano vai questi autogus pieni di gente vanno a scuola vanno a lavorare questo quella fagli una domanda sai cosa stai facendo ah sì vado a lavorare mi servono soldi per cosa e devo mangiare mia famiglia e tutto finisce al cemitero il mondo non sa dove va dove corre perché si dà premura e allora cerchiamo di non essere come il mondo che va sempre avanti senza rendersi conto di dove va e stiamo camminando nella nostra forza nella nostra carne e non nella potenza del Signore e alla fine indifesi cadiamo nelle trappole del nemico rileggiamolo rileggiamolo c'è una via che all'uomo sembra diritta ma essa conduce alla morte attenzione alle vie che sembrano giuste un giocatore di carte mi disse una volta per tre mesi non ha potuto vincere una lira e i soldi più più grossi li ho persi quando avevo carte buone che se non è carte buone non punti questo quando ero nel mondo attenzione adesso io mi liberi va bene quindi e quando ci sentiamo nel giusto la via sembra diritta la strada è giusta tutti sono d'accordo con me però conduce alla morte proverbi 14 12 se applichiamo a noi oggi questi principi vediamo tra l'uni fratelli che avevano preso la leggera gli avvertimenti che Dio ci ha ripetutamente dato e ridato e ridato avvertimenti di prepararci il Signore ci dice da anni viene il temporale viene la tempesta viene il sistema anticristo siete nel tempo della fine preparatevi beato chi si è preparato ma troppe troppe persone volevano vedere per credere molti religiosi nel mondo oggi vogliono vedere prima e invece dovevano pregare disperatamente per sapere non vedere per credere ma pregare per sapere potete scriverlo non vedere per credere ma pregare per sapere e questi fratelli amati fratelli non sono andati dal Signore con preghiere e digiuni per avere la conferma che il nostro messaggio ricevuto veniva da Dio e per questo motivo abbiamo ora taluni fratelli assolutamente impreparati nel mezzo della chiamiamola pestilenza e minimarchio capite di cosa parlo viviamo in un'era che c'è un'inquisizione di internet qua e chi vuole capire capirà visto che i tirannosauri della censura sono qua tutto è avvenuto improvvisamente l'apparenza era una sciocchezza che sarebbe passata come tante influenze ma invece hanno cominciato a siringare sono aumentati sono cresciuti il male il diavolo ha strumentalizzato questa emergenza appunto che adesso è diventato chiamiamolo l'utensile principale dell'attuale zizzania anticristo del mondo per avere potere sui popoli sto parlando delle siringate sto parlando dei green diavoli è un sistema adesso anticristo mondiale per ottenere potere sui popoli vi siringate quando diciamo noi e se non vi siringate anche se è illegale obbligarvi però non vi facciamo andare a lavorare crepate di fame è l'utensile principale della zizzania anticristo per ottenere il suo potere sulla gente sulle nazioni sui popoli sul mondo globalizzato che poi è lo scopo di tutto questo che succede le nazioni non lo sanno il diavolo però sì è lui che la bibbia chiama lo spirito dell'aria cos'è? non lo dice Efesini 2.2 per favore sì va bene Efesini 2.2 ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli il diavolo è la potenza nell'aria ci sono tre ci sono tre tre stadi va bene c'è i cieli sono tre c'è la terra e poi c'è tre cieli va bene secondo secondo Corinzi 12 ci sono tre cieli il primo è le nuvole che vediamo prima poi c'è il cielo del diavolo che è tutto intorno che il diavolo adesso in cielo dice Apocalisse 12 diavolo in cielo e il secondo cielo completamente separato dal terzo cielo dove c'è Dio va bene infatti tante gente che ha esperienze che muore esperienze di vita dopo la morte vanno in cielo sono lì per delle ore e dicono abbiamo passato abbiamo sfrecciato e prima c'era un sacco di diavoli in tutte le parti hanno visto altri vanno in un tunnel altri invece hanno passato uno stratosfera uscita da questo cielo entra un altro cielo dove c'è il diavolo Paolo in 2 Corinthians 12 dice ci sono tre cieli e dopo c'è il terzo cielo ci sono gli angeli quindi il diavolo è il Dio dell'aria il suo mondo e lui è nell'aria dappertutto lui e sui demoni miliardi di demoni però abbiamo lo Spirito Santo alto là chi va là nessuno osi preoccuparsi abbiamo Gesù Cristo nel cuore lo Spirito Santo è intorno ma c'è una condizione di essere fedeli camminare nella volontà di Dio con la bussola del Vangelo davanti anzi la bussola dello Spirito Santo il Vangelo è la cartina però non sai mai se la cartina la giri di qua o la giri di là e allora ci vuole la bussola con la bussola aderis la cartina la bussola ti dice dove è il nord e giri la cartina verso il nord ho capito il nord è là e allora la freccetta dice diritti di qua quindi bussola del Spirito Santo cartina della parola e sai dove stai andando va bene aiutaci Signore Gesù aiutaci Signore in questo mondo pieno di diavoli ma grazie a Dio gli angeli sono intorno a noi Amen Alleluia e adesso il diavolo ha messo anche la museruola al mondo cioè la mascherina che è un po' il simbolo del suo controllo mondiale ehi mascherina chi lo dice satanasso e ancora per poco fratelli tenete duro tenete duro perché abbiamo Gesù e alla fine tutto andrà bene tranquilli fratelli il governo ombra guida il mondo però non si vede questo governo ma lo si sente attraverso la oppressione è un governo che è infiltrato attraverso le banche e il loro denaro sia le destre che le sinistre i media che le religioni e le scuole e tutto guidato nell'oscurità da sette sataniche che non si mostrano operano come come i scarafaggi nel buio nelle fogne chiediamo al signore allora adesso questo basta che clicchi internet dove ti pare queste cose c'è tanta gente che l'ha capita queste cose abbiamo capito tutto questo facendo il diavolo bene 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 la domanda però che bisogna chiedere al signore se siamo i profeti di dio cos'è che dobbiamo chiedere signore cosa dobbiamo fare cioè non basta sapere cosa fa il diavolo basta sapere che i ricconi egoisti controllano zizzania depopolazione abbiamo capito e che facciamo andiamo in strada a manifestare chi vuole farlo faccia servirà qualcosa risolverà tutto no per risolvere tutto dobbiamo fare come faceva Gesù quello che dobbiamo fare il signore ce l'ha già detto e ce l'ha ridetto come tutti i nostri fratelli membri della nostra missione sanno bene però per gli altri fratelli nuovi che magari ci cliccano in internet lo ripetiamo dice il signore su cosa dovete fare Matteo 10 23 Angela quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto Matteo 10 23 e andiamo anche a Matteo 2 13 parla di parla di Giuseppe e Maria anche loro dovettero seguire questa regola Matteo 2 13 dopo che furono partiti un angelo del signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse alzati prendi il bambino e la sua madre fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire Matteo 2 13 gloria a Dio quindi neanche Gesù e sua madre e suo padre putativo dovrebbero sottrarre questa regola quando c'è una persecuzione non fare come le chiese addormentate che Dio ci proteggerà Dio è potente Allah Akbar Allah è grande Dio è grande Yahweh è grande stiamo qui seduti a poltrire scaldare le panche in chiesa perché Dio è potente no caro prendi il bambino e fuggi in Egitto e no ma Dio è potente io mi siedo a Betlemme ammassano tutti i bambini noi no perché Dio è potente è così che fece Giuseppe e Maria assolutamente no 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 stai in Egitto restaci finché te lo dico io perché Erode sta cercando il bambino per farlo morire lo vediamo in Apocalisse 12 6 cosa dice e 5 anche Apocalisse 12 6 5 Edella partorì un figlio maschio il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio al suo trono 6 ma la donna fuggì nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni che tribolazione e guarda devi cominciare in effetti dal 4 Apocalisse 12 4 la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito quindi quello avvenne quando Gesù è così avvenne quello è Erode che uccise ma viene Betlemme oggi Erode è tornato oggi però uccide tramite mezzi più sofisticati perché tempo che vai era era che vai va bene sistema diavolico che trovi quindi ci vuole un nazismo per ingannare la Germania un fascismo per ingannare gli italiani un comunismo per ingannare la Russia un capitalismo per ingannare l'Occidente quindi oggi ci vuole e una volta si sacrificavano i bambini a Moloch si bruciavano i bambini su Moloch adesso invece i Moloch si chiamano ospedali per abortire e i sacerdoti di Moloch sono i dottori pro aborto e adesso ci sono queste siringate c'è il green diavolo quindi c'è cambia la terminologia ma i diavoli sono gli stessi le stesse corna stesso forcone lo stesso satana dobbiamo solamente guardare al di là dalla mascherata adesso si vestono in modo elegante moderno e allora il punto che sto facendo Matteo 10-23 Matteo Matteo 2-13 ripeto Matteo 10-23 e Matteo 2-13 qual è il punto? il punto è che è importante di muoversi perseguire una città fuggite in un'altra così fece Giuseppe Maria con Gesù così fecero tutti gli uomini di Dio Mosè dovette fuggire in Madian per 40 anni prima di liberare Israele Abramo dovette rifugiarsi in Egitto e poi scappare dall'Egitto cioè gli uomini di Dio lo leggiamo in Ebrei 11 sempre vissero con le tende oggi le tende come si chiamano? si chiamano tende ma anche camper anche rullo anche darsi una mossa quindi è inutile sedersi in questi edifici religiosi a saltare panche tanto Dio ci protegge Dio non vi protegge no perché? perché non ha protetto i cristiani in Iraq in Siria in Afghanistan in Russia quando Lenin ha ucciso 400.000 cristiani perché? perché Dio ci protegge a trovarsi i profeti che vi dicono cosa fare fuggi in Egitto fuggi in Sud America fuggi al Polo Sud al Polo Nord ti dirà dove quindi l'importanza è di essere in grado di muoversi non impantenarsi nelle banche nei soldi negli immobili questa è la mia casa l'ho pagata vent'anni trent'anni di mutuo morirò qui ma figurati non è la tomba che Dio ha scelto per te muoviti e vai a servire il Signore dall'altra parte e ma devo vendere cerca di vendere e se non ci riesci vai lo stesso dalla in mano all'agenzia la vendere a lei e vattene spostarsi imparare dagli zingari che si spostano in continuazione e neanche Hitler che voleva esterminarli ci è riuscito e allora dice Gesù non finiranno mai i luoghi dove andare dice Gesù Matteo 10 23 ma ciascuno deve decidere per sé per quanto riguarda la mia famiglia come ho detto già in passato Dio ci ha mostrato a noi in Sud America in posto ideale parlano tutti la stessa lingua più o meno è facile spostarsi di nazione in nazione in Europa deve imparare l'ungarese qui il polacco là lo sloveno di qua il croato di là il serbo di lì il romeno di là ogni nazione che cambia deve imparare la lingua in Sud America parlano quasi tutti 20 nazioni parlano lo spagnolo per me è il posto è la zona ognuno dovrà pregare e allora io mi sono spostato nel terzo mondo insomma dove credo che la pressione dell'anticristo che viene sarà più suave sarà più leggera diversa dall'Europa ormai germanizzata quelli che io chiamo il quarto Reich qual è il quarto Reich è la globalizzazione mondiale che presto andrà sotto il totale tallone dell'anticristo va bene infatti la Germania sarà il centro delle dieci nazioni che sosterranno l'anticristo e trovatevi una casa il mio suggerimento ragazzi trovatevi una casa nel luogo la nazione il luogo fuori dall'Europa o fuori dalle dieci nazioni dell'anticristo che la Bibbia ci dice quali sono oppure fuori dalle città in qualche montagna in qualche posto che verranno verrà molto peggio di quello che vedete adesso trovatevi una casa nel luogo dove Dio vi ha mostrato di andare fuori dalle dieci corna le dieci nazioni che sosterranno l'anticristo le ripeto di nuovo le dieci corna sono le dieci nazioni che erano nel centro dell'impero romano e che adesso il settimo impero mondiale è la continuazione del sesto che era l'impero romano e che queste dieci nazioni sono Portogallo Spagna Francia Belgio Olanda Lussemburgo Germania Austria Grecia Italia va bene gloria a Dio bene io lo ripeto chissà che la ripetizione aiuta la memoria uscire da queste nazioni le altre nazioni in Europa non è il paradiso sulla terra ma non è neanche il centro il zoccolo duro dell'anticristo dove lui lì fa e sfa ci saranno anche guerre in queste dieci nazioni Bibbia profetizza anche quello procuratevi un pulmino che potrete camperizzare a piacere ma che non deve apparire un camper turistico perché? perché i campi turistici attirano la criminalità che certo aumenterà e anche di molto nelle crisi che vengono sto guardando al futuro vi sto dicendo quello che avverrà fra qualche anno qualche mese qualche anno vi ricordate le cose che stanno avvenendo adesso più o meno ve lo dissi sette anni fa sei anni fa allora cominciò la radio ma io lo dicevo anche prima però vero Angela? sì sì anche prima della radio sì perché le profezie erano le stesse anche prima e lo Spirito Santo le interpretava allo stesso modo anche prima Angela non abbiamo cambiato una virgola del messaggio corregi se mi sbaglio no è vero lo stesso messaggio che Dio ci ha dato e quello che vedete adesso il Signore ce l'aveva detto e chi ci segue da sette anni alla radio lo sa benissimo e adesso vi dico le cose peggioreranno so che andate nelle chiese a Vangelo Prosperità e vi dicono tutto bene tutto a posto dormi dormi che è quello dice che è povia che c'è una canzone dormi fate la nanna bambini fate la nanna verranno tempi migliori dormi nelle chiese in questi edifici pregate per le pecorelle incastrate in questa religione tante pecorelle e allora ascoltate questi consigli e suggerisco potreste averne bisogno va bene e allora dicevo un pulmino un pulmino che potete usare se dovete spostarvi per un'emergenza andare dal posto A al posto B e nel pulmino perché è pulmino nel pulmino ci puoi dormire ecco perché butta il materasso dalla nonna metti un piccolo gabinetto chimico mezzo metro per mezzo metro e ciao sopravvivi con quelle due cose lì il resto con calma va bene ne avrete bisogno ne avete bisogno per le cose che io vedo avvenire ed è anche una buona sicurezza spostarsi quando volete vi spostate con la vostra camera di letto la vostra cucina il vostro bagno ovunque andate avete una base per un giorno due giorni tre giorni tre mesi quattro mesi quello è necessario e poi non è che ti prepari per l'emergenza nel mezzo dell'emergenza è troppo tardi va bene non è che compri un estintore quando l'incendio è esploso non fare sicurazione dell'auto dopo l'incidente preparare queste cose per tempo amè proverbi 22 e 3 proverbi 22 e 3 dice l'uomo ha accorto vede venire al male e si nasconde ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze proverbi 22 e 3 ok la parola qui è foolish in aramaico vuol dire stupido lo stupido va avanti e ne porta le conseguenze ingenui i fratelli disorientati che non sanno cosa fare ma anche il Spirito Santo dice anche se adesso chiedete se adesso chiederete al Signore Lui vi guiderà potrà essere più difficile potrà essere più complicato ma più complicato di ieri ovviamente ma se più aspettate domani sarà molto più complicato di oggi e per il Signore Angela Marco 9 23 Marco 9 23 cosa dice il Signore Marco 9 23 e Gesù dici se puoi ma ogni cosa è possibile per chi crede Marco 9 23 alleluia va bene non ci sono difficoltà che il Signore non ti può aiutare se sei ammalato se non hai soldi se tutti ti odiano guarda il Signore è questo che ha fatto Gesù patria nel mezzo e perché ha fatto così ha salvato il mondo il mondo dei credenti ma è di sperare Dio è sempre a tiro di preghiera ma preghiera vera il segreto è sempre di onorare il Signore non religiosamente ma nel cuore cerchiamolo non dopo la decisione magari quella sbagliata ma prima per tempo prima di imboccare quella svolta prima di fare quella partenza prima di rimanere il Signore e la sua guida devono sempre venire prima non è un consiglio è un comando un'ordinanza divina benedetti chi obbedisce guai a chi non ascolta leggiamolo devi andare a proverbi 3 cominciare dal 5 fino al 9 per favore proverbi 3 5 a 9 confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri non ti stimare saggio da te stesso temi il Signore e allontanati dal male questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita proverbi 3 5 a 9 gloria a Dio non ti appoggiare la cosa principale è onorare il Signore al primo posto bene e non ti appoggiare al tuo discernimento lo fece Salomone Salomone si appoggiò al suo discernimento quante volte Angela tante volte non lo so la Bibbia ti dà il numero quante mille come lo sai mille mogli ha avuto 300 300 concubine e 700 mogli o l'incontrario non mi ricordo uno o l'altro mille mogli ha avuto la Peppa ma è possibile che non ce n'era una che andava bene tutta Israele questo deve avere una motoretta dalla Piaggia per andare a visitarla avere una Vespa dico una cosa pazzesca e alla fine al finale che ha controllato mille donne va bene una più alta una più bassa una più bassa una più magra una più così l'altra più cos'ha Ecclesiaste capitolo 1 cosa ha detto vanità delle vanità tutto è vanità qual è il guadagno di quello che l'uomo fa sotto il sole e alla fine dopo che ha controllato mille donne va bene evidentemente non riusciva a dormire due notti di filo con la stessa doveva cambiare ci vuole tre anni ci vuole tre anni per controllare mille donne e alla fine dice vanità delle vanità io ho una moglie immagina se ne avessi due Angela immagina non so come facevano i poligami nel vecchio testamento l'hanno avuto una moglie è sufficiente nel bene e nelle battaglie fratelli siate fedeli con quello che Dio vi dà e allora andiamo andiamo Angela prossima scrittura che mi devi dare proverbi 16 dall'uno al tre proverbi 16 uno al tre stiamo studiando il segreto della felicità il segreto di trovare la volontà di Dio il segreto di evitare dribblare le maledizioni di Satana il segreto della protezione proverbi 16 uno al tre all'uomo spettano i disegni del cuore ma la risposta della lingua viene dal Signore tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure ma il Signore pesa gli spiriti affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo proverbi 16 uno al tre gloria gloria al Signore tutte le vie dell'uomo a lui gli sembrano pure pure due che litigano hanno sempre ragione guardi i politici galli da combattimento si beccano fino a che uno muore cioè perde le elezioni quello che è se non scoppia una guerra perché c'è anche di quello due mondiali secolo passato quando litiga hai sempre ragione poi viene il Signore e invece lui cosa fa il Signore pesa gli spiriti come si fa a pesare uno spirito il Signore pesa lo spirito cosa vuol dire che ti guarda nel cuore ti guarda nella mente nell'anima ti guarda di dentro altro che i raggi X raggi X sai tu ti metti davanti lì e vedi Angela diventa uno scheletro il Signore di più ti fa i raggi spirituali per controllare la tua anima il Signore sa dammi la scrittura su questo Ebrei 4.12 Ebrei 4.12 infatti la parola di Dio è vivente ed efficace più affillata di qualunque spada a doppio taglio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito le giunture dalle midolla essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore la parola di Dio altri che i raggi X ma mi fanno un baffo raggi X la parola di Dio divide lo spirito di Dio da quello del diavolo i nostri pensieri carnali dai nostri pensieri che vengono da Dio le nostre intenzioni per la gloria di Dio dalle nostre intenzioni per la gloria nostra le intenzioni per la gloria della nostra chiesa carnale l'edificio della domenica dalla chiesa mondiale di Cristo sono due chiese diverse mi auguro che noi siamo parte del corpo di Cristo al cento per cento Dio ci aiuti Salmo 37 5 e 6 Salmo 37 5 e 6 riponi la tua sorte nel Signore confida in Lui ed Egli agirà Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno Salmi 37 5 e 6 va bene davanti alla difficoltà davanti alla morte alla malattia al diavolo riponi la tua sorte nel Signore confida in Lui ed Egli agirà agirà vuoi vedere Signore agire devi abbandonarti come si suol dire appeso morto se tu vai salvare uno che sta affogando a me mi insegnavano quando ero adolescente mi insegnavano come salva io non è che so notare chissà cosa ma per salvataggiare uno che sta affogando tu nuoti lo afferri e quello quello se si aggrappa te al tuo collo la tua la tua mano al tuo braccio mi dicevano quello che devi fare è devi dargli un pugno fortissimo tramortirlo perché sono affogate tutte e due infatti uno in gamba c'era uno che stava affogando questo era in gamba guardava muore muore sta affogando chi è capace di andare a salvare nessuno si muoveva e c'era un Signore che guardava tutti dal panico sta affogando sta affogando chi è capace di andare a salvare nessuno si muoveva paura che andavano sotto anche loro finalmente questo fa questo fa glu glu e sviene allora questo tipo si toglie il pastrano e si tuffa quattro bracciate lo raggiunge una un mi mette il braccio intorno al intorno al collo e con l'altro braccio nuota e tutti ma perché hai aspettato così tanto sai cosa gli ha detto se no saremmo affogati entrambi se vogliamo che il Signore ci salva dobbiamo essere appeso morto tra virgolette dobbiamo arrenderci abbandonarci si chiama si chiama biblicamente confidare Abramo si è abbandonato a Dio appeso morto ha smesso di lottare ha preso Isacco messo sull'altare Gesù si è abbandonato appeso morto per così dire si è fatto crocifichere i martiri hanno confidato nelle fiamme nelle crocifissioni davanti a leoni nelle torture appeso morto frate Giuseppe è facile predicarle si 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 facilissimo Dio ci aiuti Dio mi aiuti ad essere capace a fare queste cose che io predico Dio mi aiuti Dio ci aiuti Salmo 145 19 Egli adempia il desiderio di quelli che lo temono ode il loro grido e li salva Salmo 34 9 10 Temete il Signore o voi che gli siete consacrati poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono i leoncelli soffrono penuria e fame ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore Vuoi avere sempre ogni bene cerca il Signore vuoi scegliere la decisione giusta andare in direzione giusta cerca il Signore non ascoltare i giornali i media del diavolo non ascoltare quelli che lanciano fuoco e fulmine minacciano minacciano il diavolo sa solo minacciare ma nel nome di Gesù noi lo facciamo scappare e il diavolo è sempre scappato davanti a Gesù davanti agli uomini di Dio come Golia davanti a Davide va bene l'importante è che noi confidiamo Luca 12 30 32 e concludiamo perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno è piaciuto di darvi il regno c'è un regno nel cielo un regno va bene che c'è il nome scritto di quelli che sono stati fedeli che è andato tutto vendete i vostri beni e dateli in elemosina fatevi delle borse che non invecchiano un tesoro inesauribile nel cielo dove ladro non si avvicina e tignola non rode la ruggine non rode Luca 12 30 32 gloria Signore io credo che c'è un altro piccolo messaggio che il Signore mi ha dato una profezia dopo di questo messaggio posso darlo? sì per favore una profezia di Gesù sì si chiama Inno alla vittoria un messaggio di Gesù grazie Gesù Signore amati ricordatevi che avete già vinto in me nello mio Spirito Santo il nemico è un oggetto sconfitto lui lo sa e freme di frustrazione che che ne dicono certe religioni carnali la mia salvezza è incendibile indissolubile come scritto Malachia 3 verso 6 poiché io l'Eterno non muto e perciò voi o figlioli di Giacobbe non siete consumati Romani 11 29 perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento numeri 23 19 il Dio non è un uomo perché egli mentisca né un figliol d'uomo perché egli si penta quando ha detto una cosa non la farà e quando ha parlato non manterrà la parola dice il Signore il nemico sa che non può derubarvi della salvezza eterna che io vi ho dato cerca di derubare la sola cosa che può è l'olio delle vergini il vostro premio e corona di sposa eterni è frustrato per quelli di voi fedeli che sarete chiamati al mio trono a giudicare mentre lui sarà destinato alle fiamme eterne dopo il perdono dei vostri peccati e dopo la vostra salvezza per grazia io vi ho anche offerto il meraviglioso dono di condividere con chi mi sarà fedele il mio trono Apocalisse 3 21 io condividerò con voi di regnare con me per l'eternità nell'infinito regno del Padre e di questa futura autorità dei fedeli che Satana è geloso e furente la sua invidia lo porta a cercare di distruggere tutto e tutti ma come è scritto io l'ho segregato sotto i piedi della vostra fede lui sa che i suoi giorni sono contati e poi e poi sarà il suo inferno eterno Apocalisse 12 9 a 12 il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana il seduttore di tutto il mondo fu gettato giù fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli sapendo di aver poco tempo vi ho chiamati a resistere la vittoria è alla vostra portata ancora per poco la mia chiesa dovrà soffrire ma i miei fedeli vinceranno attraverso ogni battaglia perché io sono con voi e lo è la mia onnipotenza i miei angeli sono sempre a vostro fianco per sorreggervi quando la via si facesse troppo dura e non sarete mai provati al di là delle vostre forze perché io sono con voi non vi lascio mai non temete io sono con voi io ho annientato anche la morte Isaia 25 8 a 12 annienterà per sempre la morte il Signore l'Eterno asciugherà le lacrime da ogni viso torrà via di su tutta la terra l'onta del suo popolo perché l'Eterno ha parlato in quel giorno si dirà ecco questo è il nostro Dio in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato esultiamo rallegriamoci per la sua salvezza poiché la mano dell'Eterno riposerà su questo monte mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si pigia la paglia dell'etamaio di mezzo all'etamaio Egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare ma l'Eterno farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite e l'altra fortezza delle tue mura Egli la debolirà la batterà la terrerà fin nella polvere Isaia 25 8 a 12 Apocalisse 20 10 E il diavolo sarà gettato nello stagno del fuoco e dello zolfo dove la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli Grazie Signore Alleluia Alleluia Ti ringraziamo Gesù Gloria a te Signore Amen Ti diamo la lode Signore Grazie Signore Grazie Signore Gesù Amen Io al verso 10 Mi rileggi il verso 10 Del Isaia 25 Poiché la mano dell'Eterno riposerà su questo monte mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si piggia la paglia nell'etamaio Grazie Signore Anche l'11 Di mezzo all'etamaio Egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare ma l'Eterno farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite e l'altra fortezza delle tue mura Egli la demolirà la batterà la terrerà fino alla polvere Amen Gloria a Dio fratelli nessuno tema Il nostro Dio è in controllo Gloria Signore Dammi un'altra scrittura in favore Ti prego Isaia 62 4 a 6 Isaia 62 4 a 6 Non sarai chiamata più abbandonata La tua terra non sarà più detta desolazione ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei e la tua terra maritata Poiché il Signore si compiacerà in te la tua terra avrà uno sposo Come un giovane sposa una vergine così i tuoi figli sposeranno te Come la sposa è la gioia dello sposo così tu sarai la gioia del tuo Dio Sulle tue mura Gerusalemme io ho posto delle sentinelle non taceranno mai né giorno né notte Voi che d'estate il ricordo del Signore non abbiate riposo Isaia 62 4 a 6 Gloria Signore Con questo concludiamo fratelli il messaggio Grazie Signore In conclusione fratelli non preoccupatevi troppo per le difficoltà che il diavolo vi mette intorno occhi su Gesù fratelli occhi sul Signore occhi sulla sua potenza cerchiamo la Signore non è lontano è sempre a tiro di una preghiera Lui è un Dio miracoloso Lui sorregge Lui viene da quelli che lo cercano ci penserà Dio alle difficoltà intorno a noi fratelli Grazie Signore Mai preoccuparsi Mai Questa è una una cosa che credo che non so se posso dirlo l'ha imparata ma che mi ha aiutato tantissimo nei momenti più difficili del bisogno quando molti scappavano buttavano il fucile buttavano la spada la spada della parola e scappavano e il Signore mi diceva vai avanti ma tutti scappano vai avanti ma c'è questo problema vai avanti io sono Dio ma il diavolo niente guarda bene dove è il diavolo eccolo ed era sempre sotto i miei piedi e il Signore faceva cose che io neanche mi immaginavo la risposta sa una porta sulla destra si apriva a sinistra la risposta è ho bisogno i soldi il Signore rispondeva in un altro modo senza soldi arrivati a un porto dovevamo andare in un'isola soldi al solito cantare ragazzi andiamo insomma c'era una lunga storia evangelizzato il capitano ci ha messo sulla nave siamo andati e ci hanno fatto pagare il biglietto come? abbiamo dovuto fare cantare con la chitarra canti cristiani grazie a Dio io ho dovuto fare un teatrino perché sempre ho fatto teatrini io qua e là io sono un pagliaccio con i fiocchi e facevo il teatrino il Vangelo ovviamente grazie Signore quindi mai mai preoccuparsi ma e mangiare vai come mi vesto vai i soldi vai va bene nel Vangelo ci sono due lettere potentissime nel Vangelo quali sono? tutte sono potentissime due dice va ah capito va se non fai il va non c'è Vangelo prima fai il vai e poi arrivi al Vangelo gloria a Dio Angela e io ti do il microfono sì mettiamo un canto e poi proviamo a fare un collegamento con Dali alleluia ti benedico ascoltiamo Antonio Mora non si turbi il vostro cuore alleluia le mie stanze sono pronte nel cielo io le ho preparate per voi non si turbi il vostro cuore perché di nuovo vi vedo sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò come una donna che indoglie gioisce quando dà la luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore così poi quando io verrò quando in gloria vi incontrerò vi rallegrerete una gioia ineffabile non ricorderete mai più la tristezza e il dolore nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia non si turbi il vostro cuore presto a voi vi ritornerò abbiate fede in Dio e abbiate fede in me come una donna che indoglie gioisce quando dà la luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore così poi quando io verrò quando in gloria vi incontrerò e l'allegrerete di una gioia ineffabile non ricorderete mai più la tristezza e il dolore nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia e l'allegrerete Grazie a tutti.